ciao amici benvenuti nel mio burattino facile da realizzare e manovrabile molto bene con le tre dita della mano il cartamodello che vi allego è ridotto nel 70% quindi dovete ingrandirlo fate il guanto poi lo rovesciate ed eccolo qua ecco qua si manovra veramente molto bene con le tre dita della mano questo è l'abito di papa francesco l'avrete riconosciuto il nostro personaggio queste sono le fasce e prima sistemiamo le aperture per infilare le braccia del burattino chiudiamo l'abito in questo modo e poi metteremo le fasce e anche i bottoni in questo modo queste sono le scarpe le ho realizzate in pannolenci ho messo doppio strato potete utilizzare anche del feltro che rispetto al pannolenci è più consistente e quindi basterà un solo strato capelli e zucchetto sono fatti in feltro uscite e rovesciate uscite e rovesciate adesso con la colla a caldo realizziamo velocemente tutto il resto buon lavoro buon divertimento e buon gioco educativo con i vostri bambini ciao al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti